Nel 2019 c'è stata una guerra universale in pieno, in piena regola attentati, terrorismo, disordine, assassini politici questa guerra ha messo fine a tutto il mondo Dopo una storia come questa potete ancora dubitare che certe volte la guerra sia necessaria per seguire gli ordini di Dio Devo aver avuto un herpes dato che questo discorso non mi è nuovo A un certo punto un gruppo di cavalieri guidati da Mari Giordano Decidono di organizzare un'associazione Tu non ci crederai che cosa si sono inventate? Albonus, monopattino Zang, ci sei? Chiamo un dottore? Quello che noi virologi chiamiamo tracimazione Ha lasciato l'Enterprise per comandare l'armata di Salvadini È parzialmente pericoloso Cosa vuole qui? Vuoi dei paesi limitrofi Come? No Ma lo voglio! Lo voglio! Lo voglio! Lo voglio! Ritengo sia arrivato il momento di usarla Distruggeremo la Repubblica Matteo Salvini e Mario Giordanos Questi scribinali vogliono la fine del nostro progetto Sto raccogliendo informazioni A breve prenderò decisioni molto importanti Meglio essere gay Avevamo giurato di scopare le piramidi Non avevo intenzione di fare solo da spettatore Se incontreranno la morte in viaggio o in battaglia contro gli infedeli Vi sarà l'immediata remissione dei peccati Sovrintendi preparativi? Sì Preparati sovrintendi Sì Sì Io sono l'uomo che ha ucciso Gats Fring Gli hai sfraggellato la testa con un banco, Matt Per gli dei ero forte a quei tempi Gli hai sfraggellato la testa con un banco, Matt E' un po' che sta chiamando Dona un solo suo O ball è abbondante O-oh-oh O ball è abbondante O ball è abbondante O ball è abbondante O ball è abbondante Del mondo Fatti il male tu O ball è abbondante Sii sempre più Abbondante Gli elfi scappan via, in preda alla follia Lì sulle montagne, in preda alla follia Dona un solo su Oh vale abbondante, oh vale abbondante Oh vale abbondante, oh vale abbondante Oh vale abbondante